Isola dei famosi Isola dei famosi, chi sono i favoriti? Francesco Monte tra i più quotati Isola dei famosi, chi sono i papabili vincitori di questa edizione? Ecco una lista dei favoriti. Stasera andrà in onda alla prima puntata dellIsola dei famosi. A condurre quest'anno sarà di nuovo Alessia Marcuzzi affiancata da Stefano De Martino, inviato, e Daniele Bossari e Mara Venier, opinionisti. Il cast di questa edizione, stando all'entusiasmo di molti telespettatori, sembra promettere bene. Ma chi sono i volti amati dal pubblico che si contenteranno la vittoria questa volta? Alcuni stanno già iniziando a fare i primi pronostici, stilando una classifica di quelli che, al momento, sembrano essere i concorrenti più favoriti dal pubblico. Isola dei famosi, Francesco Monte papabile vincitore. A fare una classifica, provvisoria, dei probabili vincitori sono stati diversi bookmaker. In tutti i pronostici, però, Francesco Monte, sembra essere uno dei più favoriti. Stando a queste prime statistiche, dunque, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez potrebbe effettivamente essere il prossimo vincitore dellIsola dei famosi. . Subito dopo di lui, un altro super favorito pare essere anche Giucas Casella, che si posiziona al secondo posto. Al terzo, invece, troviamo la cantante Bianca Azei, mentre agli ultimi posti spuntano Francesca Cipriani e Nino Formicola, in arte Gaspare. . Isola dei famosi anticipazioni Prima puntata, ecco cosa vedremo stasera. . Cosa accadrà questa sera all'Isola dei famosi? Fino ad ora quello che sappiamo è che Paola Di Benedetto, madre natura in Ciao Darwin, è riuscita a raggiungere i naufraghi dopo essere stata fermata la scorsa settimana e rispedita a casa dall'aeroporto. . Gabriele Parapiglia però, autore del programma, stamattina ha rivelato che al riguardo altri dettagli saranno svelati stasera. . Durante la diretta, inoltre, assisteremo alle prime nomination che, stando a quanto già emerso, probabilmente segneranno ancora di più una prima divisione nata all'interno del gruppo. . Chi avrà la meglio? Emergeranno già i primi dissapori o tutti cercheranno di mantenere la calma per evitare di esporsi troppo già alla prima puntata? Restate sintonizzati, lo scopriremo presto. .